Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ci siamo lasciati con un video dove avevamo perso la missione purtroppo quindi in questo video faremo un piccolo upgrade delle attrezzature in modo tale di poter vincere la missione sperando di poter vincere la missione, adesso vi faccio vedere come stavo dicendo adesso facciamo un piccolo upgrade della roba, del pesciame e così e vediamo cosa possiamo aumentare e cosa non possiamo aumentare anzi aumentiamo prima di tutto il mulinello 200, vai, compra, preso abbiamo aumentato il mulinello per 2 aspettiamo che aumenti la forza vediamo a quanto pare ogni volta che facciamo un upgrade su qualcosa va in blocco totale l'applicazione quindi tocca sempre uscire e rientrare successivamente e a quanto pare dopo riparo ha fatto l'upgrade senza problemi adesso faremo anche un upgrade ovviamente della canna dato che abbiamo aumentato il livello sempre per 2 e poi faremo un upgrade di qualche esca e guardiamo se riusciamo a comprarne anche di qualche nuovo magari se riusciamo a trovare uno spinner bait o qualche altro crank da usare vediamo, 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 upgrade alla canna fatta e dato che ci siamo già oltre alla canna facciamo anche l'amo upgrade vediamo adesso cosa farlo allora abbiamo degli spinner bait ma costano 1000 monete e non li abbiamo più, ne abbiamo pieno 748 quindi a sto punto farei un paio di level up prima di tutto porterei tutti uguali dato che i primi due li avevo già portati prima di iniziare il video giusto per capire un po' come funzionava a livello 2 quindi porteremo sia il min off a livello 2 poi porteremo anche il crank a livello 2 e successivamente porteremo anche il jig a livello 2 e niente abbiamo fatto un po' di level up su alcuni prodotti ci mancano ancora 448 monete e magari ci prendiamo qualcosina un cappellino vediamo magliette possiamo cambiare il giubbettino ho un'idea di precisa di come vorrei fare l'omino se avete qualche idea fatemelo sapere qui sotto nei commenti sia delle magliette diciamo del giubbettino non più che maglietta perché è tutto abbinato e sia del cappello scrivetelo sotto adesso ve li farò vedere e ci sono anche gli occhiali a quanto pare invece per cambiare la barca ci costa sui 3000 ma non ce li abbiamo quindi adesso torniamo qui cosa possiamo aumentare potrei spendere gli ultimi 200 nel sonar di aumentarlo il raggio d'azione e poi nell'attrazione sembra quasi dall'esca non riesco a capire bene di che cosa si tratta adesso siamo rimasti con 48 munite e e niente la prossima missione sarà ancora ne abbiamo fatte 4 ne abbiamo finito le prime 4 e dai upgrade fatto e ora siamo pronti per sfidare James speriamo di vincere comunque scrivete nei commenti come volete lo mino cappello occhiali cono senza e maglietta giubbettino diciamo e adesso andiamo a sfidare James ci vediamo nel prossimo video ah scordavo vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi al canale e accendere la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti